Proseguono i servizi dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Sassari e propri associati durante l'emergenza coronavirus e rivolto a tutti i disabili visivi del Nord Sardegna, assicurando servizi di consulenza psicologica e telefonica, ad esempio con il progetto Stessa Strada per Crescere Insieme, ed un'assistenza informatica al fine di garantire le comunicazioni tra i cittadini ciechi e i povedenti, concludendo con un aggiornamento costante di informazioni e contatti per permettere agli affiliati di utilizzare tutti i servizi logistici. Il lavoro viene svolto nell'assoluto rispetto delle direttive nazionali, regionali e comunali. Il Presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Sassari, Franco Santoro, ha ringraziato tutto il personale e i volontari per l'immenso aiuto offerto e inoltre ha dichiarato che l'esperienza e la consuetudine che i ciechi hanno con l'assenza di luce e l'isolamento sono al servizio di tutti, per abbattere la più pericolosa forma di buio che attraversa in questo momento le vite di tutti noi, la paura. Per qualsiasi informazione, la sede è situata in via Quarto 3 a Sassari. Per contatti telefonici basta rivolgersi al seguente numero 079 23 37 11 oppure tramite mail all'indirizzo uicss.it.